pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati corsa ai primi posti ricerca del tornaconto nodi esistenziali che il vangelo viene ad illuminare per sciogliere vediamo un po gesù invitato a pranzo a casa di un fariseo e osserva come gli invitati cercavano di prendere i primi posti secondo le regole del galateo del tempo il posto d'onore era riservato all'ospite più importante o al padrone di casa e via via tutti gli altri in ordine di importanza quindi primi posti uguale maggior rilevanza agli occhi degli altri non solo spesso le vivande poste su un vassoio venivano fatte passare tra i commensali a partire dai primi verso gli ultimi quindi primi posti uguali cose migliori ecco dunque la corsa alle poltrone vai arraffi chi può prima io e poi gli altri ma soprattutto emerga chi può ecco abbiamo qui il tarlo micidiale della vanagloria a cui tutti io per primo dobbiamo fare attenzione e quello smodato desiderio di apparire e ricevere lodi dagli altri che ci porta a volerci mettere in mostra per avere visibilità apprezzamenti follower e in questa epoca dei social possiamo capire quanto sia pericoloso il rischio di pascere il nostro ego faccio una cosa subito lo devono sapere tutti perché mi metta non mi piace e che ansia se non ho abbastanza like il cardinale ravasi ha detto alzi la mano chi non si è mai lasciato cullare dalle onde dolci di un complimento di un successo di un apprezzamento dalla naturale soddisfazione per un risultato positivo è facile passare alla vanagloria immaginare di possedere capacità uniche di essere chissà chi ed eccoci presi dal sognare ruoli e visibilità pensando pure di meritarla più degli altri dalla corsa agli incarichi vissuti come prestigio personale e non come servizio che sia al lavoro in parrocchia anche in curia mostrandoci altezzosi influenti risultando in tal caso deprimenti lo dice molto bene il poeta romanesco trilussa nella sua famosa la lumaca la lumachella della vanagloria che era strisciata sopra un obelisco guardò la bava e disse già capisco che lascerò un'impronta nella storia ecco l'antidoto alla vanagloria mi cari prima di tutto è un sano realismo perciò gesù dice quando sei invitato a nozze da qualcuno non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te lui venga a dirti cedigli il posto allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto dobbiamo ammetterlo quante volte questa dinamica ci è accaduta attraverso le umiliazioni ad esempio abbiamo iniziato a spararle un po troppo grosse a sentirci più di quel che siamo realmente a volerci mettere un po troppo in mostra abbiamo iniziato chissà quali scalate sociali ed ecclesiali ambendo a posti che non ci competono ed ecco fragorose cadute magre figure come si suol dire più in alto uno si innalza più si fa male quando casca e così siamo stati ridimensionati rimessi al nostro posto ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili canta la vergine maria nel magnificat quanto ci fanno bene certe umiliazioni ci aiutano a diventare più umili più consapevoli di noi se lo saremo non ci insuperbiremo per le lodi né ci deprimeremo per le critiche dunque Gesù ci dice quando sei invitato non andare a metterti al primo posto che non vuol dire non impegnarti non cercare di migliorarti professionalmente ma vuol dire rinuncia a quell'inutile lotta per affermare il tuo ego per apparire meglio degli altri cercando plausi e consensi come se fosse lì il tuo valore come se questo risolvesse la tua vita scusate l'esempio semplice miei cari ma un asino che viene agghindato con stoffe regali e forse meno asino di un asino che lavora in campagna sempre asino è non sono di certo quelle stoffe a dargli una diversa sostanza ecco ognuno è tanto quanto è davanti a dio né più e ne meno direbbe san francesco d'assisi dunque che ci interessi ciò che siamo davanti a lui ciò che siamo realmente e non l'apparire davanti agli uomini non sono loro a darci il nostro valore e il signore a dircelo e darcelo infatti subito dopo Gesù dice quando sei invitato vai a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato l'atteggiamento a cui Gesù ci chiama è non entrare in queste inutili corse all'apparire occupa il tuo posto e fai bene il tuo ciò che conta miei cari e saperci invitati a questo banchetto sapere che il signore ci ha chiamati gratuitamente alla vita alla fede a occupare un posto unico e ciascuno tu che ascolti compreso al suo posto è prezioso quasi come un arcangelo al suo ciò che conta è vivere nell'amicizia del signore mettere il cuore qui ed ora in ciò che lui ci chiama a compiere lui che conosce il tuo cuore che conosce le tue gioie le tue fatiche le tue lotte le tue vittorie lasciamoci dare da lui il nostro posto sarà lui eventualmente a tirarci su sarà lui a darci ciò che ci spetta occupare l'ultimo posto in fondo significa occupare il posto che ha occupato cristo lui che non è venuto per essere servito ma per servire a tal proposito sentite com'è bello questo episodio vissuto da san francesco saverio apostolo indomito dell'asia un giorno si trovava yamaguchi in giappone e stava annunciando il vangelo in giapponese sapeva solo il credo e questo ripeteva con un sorriso disarmante alcuni ragazzini vedendolo vestito così stranamente con una faccia così ridicola e udendolo balbettare in un giapponese improbabile parole astruse presero a insultarlo a sputargli a tirargli pietre e francesco impassibile continuava seduto all'ultimo posto il sorriso sul viso e il credo sulle labbra passava di lì un samurai osserva la scena e si ferma impietrito poi stordito si avvicina a francesco attraverso il suo compagno interpreta e gli dice cosa hai tu più di me io sono il primo in questa città e l'onore è la cosa più importante per la mia vita tu qui sei l'ultimo eppure devi avere una cosa più grande e importante dell'onore per essere così libero da lasciare che te lo tolgano voglio quello che hai tu fu il primo samurai convertito al cristianesimo l'ultimo posto lo aveva attirato a cercare il tesoro meraviglioso che vi si nasconde ed ecco l'indicazione seguente di gesù che spalanca il cuore alla gratuità quando fai un pranzo non invitare amici parenti conoscenti gente che può darti il contraccambio ma invita poveri storpi ciechi zoppi gente che non ti può ricambiare e avrai la tua ricompensa nella risurrezione dei giusti il signore ci chiama a uscire da relazione circolo chiuso basate sul dare e ricevere io invito te così tu inviti me tu hai invitato me quindi io invito te io do a te così tu darai a me relazioni che insomma ci tengono incastrati nella ricerca di noi stessi del nostro tornaconto e tra l'altro gli ultimi restano ultimi e i poveri sempre esclusi in modo profondo si tratta di essere liberati dalla ricerca del proprio tornaconto immediato e dobbiamo essere sinceri dentro di noi abbiamo una sorta di logica commerciale difficile da scardinare ho fatto un'opera buona per te e mi aspetto riconoscenza nei secoli dei secoli oppure faccio tante cose ma al momento giusto te le rinfaccio o faccio un'opera buona magari anche in chiesa e mi aspetto targhetta e fanfara quanto fa male sentire che la persona che abbiamo accanto si serve di noi che sta vicino a noi per interesse quanto fa bene al cuore sentire che la persona che ho vicino mi ama per ciò che sono insomma miei cari il signore ci chiama entrare in relazioni gratuite ad amare ad includere a dare a chi non mi può ricambiare posso arrivare a questa gratuità posso vivere questa bellezza perché per primo faccio esperienza della gratuità di dio cosa rende il mio cuore gratuito l'essere colmo della gratuità di dio del suo amore immenso e scandaloso ricorda dio ti ama prima e più di quanto tu possa capire dio non ti ama per avere qualcosa dio non ti ama se sei bravo non ti ama perché lo meriti dio non ti ama per avere qualcosa in cambio da te ti ama perché non può farne a meno se cosa sua nella scrittura dice che ti ha disegnato sul palmo delle sue mani si commuovono le sue viscere per te freme d'amore per te ed è quest'amore che lo ha spinto a morire per te e lo vuole riversare sempre più copiosamente in te e lo puoi accogliere specie quando preghi quando ricevi sacramenti e i raggi di quest'amore ci toccano anche attraverso l'amore degli altri quando ci hanno amati anche nei nostri lati peggiori quando eravamo insopportabili anche quando non lo meritavamo quest'amore dilata il cuore chi di noi può pensare di meritarlo chi di noi può sentire come dovuta la misericordia di dio e l'esperienza di questa gratuità che ci permette di fare altrettanto un po come accadda quel bambino che un giorno presentò una lista alla mamma con su scritto per aver sistemato la stanza 3 euro per aver portato fuori il cagnetto 3 euro per aver fatto i compiti 4 euro totale 10 euro la mamma sorrise giro il foglio scrisse e lo diede al piccolo che lesse per averti portato in grembo nove mesi 0 euro per tante notte insonni 0 euro per aver tirato tutto ciò che so 0 euro totale 0 euro il bambino si commosse e scrisse tutto pagato cari fratelli e sorelle apriamoci alla generosità di dio verso di noi e apriamoci alla generosità verso gli altri includendo nel giro delle nostre amicizie i poveri gli ultimi coloro che non ci possono ricambiare donando senza nulla aspettare certi che sarà il signore a darci la vera ricompensa lui che è molto più generoso del mondo lui che sa ricompensare molto meglio di chiunque lui che ci ricompensa con la vita eterna che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti